Posso dire chi è l'handicap del gruppo? Andrea? Sì? Sei tu? Ripetilo adesso? Sei l'anello debole del gruppo, sei tu che rallenti tutto. E perché hai un calzino più alto e uno più basso? E perché hai i pantaloncini sotto una felpa con la camicia sotto? E il cappello dentro casa? E perché? Perché doveva venire ospite... E ancora il green screen attivo dietro? Perché doveva venire ospite Cecchi Pavone. Che mordi. Sei scaricato il Joe Vampire? Se a me mancano un giga. A me mi mancano 30 secondi. Due ore per scegliere un cazzo di gioco quando ho pronto GTA. È vero, ma Simone non vuole fare GTA. Sdrumox e Paolo non si sa cosa cazzo stanno facendo. Stanno mangiando da ore. Perché a questo punto credo che ci hanno scammati. E io ho sprecato 100 euro in tre giochi. Di cui due per me e uno per te. Dopo giocheremo a GTA. Dopo giocheremo a GTA. Facciamo la modifica. Facciamo la modifica con Simo. Grazie Giulie. Ollare, 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 ollare. Bentornato. Ci sei Simo? Battle Clock Theater è il gioco per due più bello mai creato. Battle Clock Theater. Conoscete i ragazzi in chat? Conoscete i ragazzi in chat? Grazie per la modifica. Grazie console demagogico. Omi non devi prendertela. Panetti è invidioso del tuo stile. Panetti è invidioso. Tu madre è invidiosa del mio stile. Schomi ti voglio bene. Ragazzi non rompete il cazzo in chat perché vi panno merdosi. Mi hanno scassato il cazzo di questi wall spam di merda. Bravo, bravo. Dai, l'ho scaricato io, Andrea. Eh, anch'io, anch'io. Tempo resi. E c'è in piedi che cammini da una parte all'altra della stanza. Siediti. Senti, siamo un attimo, Calmini, eh. Siamo un attimo, Calmini. Rettiramenti. Gli altri streamer avrebbero fatto questo e questo in meno di un... È indovina di chi ha la colpa. Non di certo mia che sono uno che propone sempre. Ho di certo io la parts costruente. Belle le proposte. Anche io inizio a proporle, dai. Vediamo se sparo tra una proposta e l'altra. Vediamo se ne esce una buona. Ti vado ad andare a fare una live Irla al parco, Andrea? Vai, giochiamo alle altalene. Dove devo fare? Vado proprio quello che gira. Ok, ok.